Sono iniziati i lavori e le opere per quanto riguarda la scalinata che dalla statale 33 del Sempione porta alla spiaggia delle Rocchette. Ma quello che è più importante è che è iniziata anche la fase progettuale per proseguire la passeggiata che scende in piazza ad Arona. Sì, la fase progettuale è stata ultimata. Noi abbiamo visto il progetto, è sostanzialmente identico a quello sul quale noi in questo momento siamo. È una passeggiata a sbalzo che ha purtroppo un costo molto elevato, però lo abbiamo già finanziato e costerà 800 mila euro. Avremo la possibilità di sostanzialmente da piazza San Graziano arrivare fino alla spiaggia delle Rocchette perché qui possiamo vedere che è stata armata la scala, è stata fatta la prima gettata. Dopodiché la sovrintendenza ci ha detto che dovremo utilizzare dei sassi per mantenere l'equilibrio dal punto di vista estetico. E quindi direi che i lavori chiaramente non saranno ultimati per quest'estate, ma contiamo che per l'anno prossimo sicuramente avremo anche la possibilità di arrivare fino a qua. Quindi da piazza Gorizia si potrà raggiungere poi in un secondo tempo il Cidbar senza calpestare il suolo della statale del Sempione. Senza calpestare il suolo della statale del Sempione, però dovremo anche realizzare proprio in questo punto un passaggio pedonale illuminato e con la totale sicurezza perché sicuramente avremo anche pubblico che arriverà dall'alto, da San Carlo, oppure dal marciapiede sul lato opposto della strada e quindi avremo qui un passaggio pedonale in totale sicurezza. Finite queste opere, la spiaggia delle Rocchette sarà totalmente utilizzabile, un fiore locchiello per quanto riguarda le spiagge di Arona? Assolutamente sì, questo è il punto in cui noi abbiamo le acque in assoluto migliori. Fino ad oggi purtroppo avevamo il lago molto alto perché c'erano sostanzialmente le chiuse della diga della Miorina che non consentivano all'acqua di defluire verso il Ticino. Oggi come potete vedere il lago è sceso, quindi abbiamo dato un incarico ad una ditta di venire a ripluire ciò che il lago ci ha dato purtroppo, però da settimana prossima sarà assolutamente fluibile. Grazie.